Nell'ambito di una continua ottimizzazione della macchina comunale, l'amministrazione di terra roveresca ha attivato ulteriori servizi per renderli più semplici e accessibili a tutti. Come prima cosa, il servizio della polizia locale è stato posizionato nel municipio di Barchi. In questa nuova ubicazione c'è uno sportello per il pubblico, situato al piano terra, aperto tutti i giorni, eccetto il giovedì. Le modalità per contattare i vigili continuano a rimanere le stesse, inoltre con l'obiettivo di creare un unico punto di accesso e di fornire informazioni ai cittadini. Dal primo febbraio sono stati attivati nei municipi di Barchi, San Giorgio di Pesaro e Piagge, quelli che sono stati denominati sportelli polifunzionali. Sono delle ulteriori articolazioni del comune che permettono al cittadino di, in maniera più semplice, con un supporto costante, accedere ai tanti servizi che possono essere dal semplice modulo per la potatura straordinaria delle nostre siepi, delle nostre arbusti, fino a documenti più complessi come cessazioni, denunce per l'Atari e quant'altro. E poi è anche un modo per ricevere tutte quelle informazioni che possono servire al cittadino. Quindi il cittadino, specialmente i più anziani che non possono spostarsi, hanno difficoltà, possono accedere nel proprio municipio a questi importanti servizi. Gli sportelli, ha precisato il sindaco Sebastianelli, saranno aperti nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle 12. Inoltre, oltre allo sportello polifunzionale per il cittadino, quindi in presenza, abbiamo attivato, raggiungibili del nostro sito internet del comune, una specifica sezione che si chiama sportello comunale online, dove il cittadino può fare da casa, autenticandosi con lo speed o con la propria carta di identità elettronica, perché quella funziona come uno speed, come un'identità digitale, quindi può accedere a tutti i servizi erogati del comune, compreso dal 1 marzo, anche sarà attivo lo sportello per il genitore, dove il genitore seguirà tutti quelli che sono i servizi e che usufruisce il proprio bambino qui nelle scuole del comune di Terra Roveresca. Grazie.